Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e lasciare anche un like ho fatto un tutorial su come aggiustare Epic Games tanti ma tanti mesi fa e oggi con una nuova soluzione ai nostri problemi Epic Games finalmente si è svegliato a darci una mano nel senso hanno aggiunto la verifica dei file di un gioco quindi se avete problemi con un gioco su Epic Games per esempio l'unico gioco installato da Epic Games è Among Us ho dovuto per forza scaricare un gioco tanto per farvi vedere se andiamo su gestisci qui c'è scritto verifica i file ok molto semplice verifica i file clicchiamo su verifica ha fatto già la verifica del gioco vabbè è un gioco di 200 MB e vediamo se si avvia ok vediamo esecuzione in corso e voilà si è avviato Among Us vabbè è un gioco semplicissimo quindi spero tanto che questo video che è stato utilissimo sia a fare la verifica dei file perché la verifica è molto importante soprattutto su moltissimi launcher come Steam Ubisoft Origin Epic Games GeoGalaxy GeoGalaxy è il migliore soprattutto anche a contare le ore di quanto tempo passiamo vicino ai giochi quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial e mi raccomando se avete problemi non esitate a commentare e non esitate a cliccare il link del server Discord quindi di entrare nel server Discord e richiedere aiuto tutto qua ok quindi ciao ciao